Io dico sempre che la vita non è perfetta, che la normalità non esiste, nessuno si può arrogare il diritto di stabilire chi e cosa è normale, ma se ci pensate noi siamo caratterizzati dai nostri difetti che ci rendono unici. Sono Luca Trapanese, napoletano, 44 anni, mi occupo di disabilità da quando avevo 14 anni. Circa 4 anni fa ho sentito forte il desiderio di paternità e volevo essere padre di un figlio disabile per la mia formazione e la mia consapevolezza che la disabilità può essere vissuta anche in maniera felice e ho fatto una richiesta di affido di un bambino disabile senza porre nessun limite. Il tribunale mi ha voluto conoscere per darmi la possibilità di prendere in affido Alba una bambina che è stata partorita in ospedale, lasciata in ospedale dalla madre e che per la sua sindrome di Down non riusciva ad essere collocata tra le coppie tradizionali che avevano fatto richiesta di adozione. Oggi Alba è mia figlia a tutti gli effetti e siamo una famiglia, al pari delle famiglie dei miei amici etero che hanno dei bambini, Alba e nonni, cugini, zii, la scuola, ma la cosa che ci unisce alle altre famiglie e l'amore. E' Alba che fa la pappa, è il gatto Giorgio che si vuole prendere la pappa e papà dice no Giorgio questa è la pappa di Alba, nonno non si tocca. Alba è fortunata, ha un carattere allegro, simpatico, gioioso ed è una vita entusiasmante. Io come padre sono felice di assistere alla crescita di Alba è vedere ogni giorno una persona diversa. Allora stiamo vedendo un film, è vero? Stiamo vedendo Coco, adesso Alba e i film si vedono seduti, fermi, in silenzio, in silenzio. Il primo incontro con Alba è stato quando i giudici mi hanno dato l'autorizzazione ad andarla a prendere, quindi io l'ho conosciuta direttamente in ospedale ed è stato sicuramente come quando ti nasce un figlio e quindi lo hai tra le braccia per la prima volta. Non mi ha mai preoccupata la disabilità di Alba perché sono consapevole, perché nella mia vita ci sono tante persone con la sindrome di Down ed ero preparato. La disabilità spaventa, preoccupa, crea ancora vergogna e c'è molta solitudine delle famiglie che hanno figli disabili. Penso che i no di Alba sono i no di una società e quindi quelle persone, quelle coppie che non l'hanno voluta non vanno giudicate. Bisogna farsi la domanda del perché. Non dobbiamo trovare sempre colpevoli delle cose, ma capire le cose. Ci sono una serie di problemi oggi, le famiglie sono più fragili, le coppie sono pochissime, l'adozione è vista ancora come l'ultima spiaggia dove arrivare quando non riesci ad avere dei tuoi figli, mentre tanti sono i single che potrebbero essere pronti ad adottare. Io sono stato valutato per la mia rete familiare, la mia capacità genitoriale, la consapevolezza di diventare padre. Nessuno mi ha chiesto qual era il mio orientamento sessuale e con chi andavo a letto la sera. Si sono focalizzati sul risultato finale, cioè la creazione di una famiglia. Noi in questo momento viviamo in un paesino di 2000 abitanti da quando c'è la pandemia e potremmo dire forse è un paesino all'antica, invece io e Alba siamo amati e siamo integrati in questa comunità in una maniera eccezionale. Io credo appunto che la società già è avanti, ma ha bisogno però di essere regolamentata. Non mi sono mai pentito della scelta che ho fatto e sono felice di essere padre e padre di Alba.